Nuovo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela. Abbiamo come sempre il nostro amico l'Avvocato Giuseppe Placentino, Presidente dell'Associazione Difesa Salute, in apertura per parlarci questa settimana di un tema di sicura attualità. Si tratta della moneta elettronica, qual è il punto di vista dell'Avvocato? Eccoci qui di nuovo con Difesa Salute su Padre Pio TV a parlare di un unico argomento. Perché questo unico argomento? Perché penso che sia molto interessante e sia importante perché è di attualità. Il cambiamento tra la moneta cartacea e la moneta elettronica. Proprio in questi giorni la manovra finanziaria, la legge finanziaria proposta dal Conte Bis sta producendo, anche se poi c'è stato uno slittamento di alcune norme, sta producendo una rivoluzione copernicana. Vogliono cioè che la moneta elettronica sia la moneta utilizzata dai cittadini e che il contante vada via. Quindi questo è un bancomat, un'altra carta di credito qualsiasi dovrebbe sostituire il contante. Io vorrei fare un escursus storico per giungere a delle conclusioni che potrebbero essere anche criticabili ma sono le mie conclusioni non da economista ma da un cittadino come gli altri. Negli ultimi anni le banche hanno avuto delle gravi crisi finanziarie. Chi non ricorda la banca Etruria, la Cari Chieti, la Cari Ferrara, la banca delle Marche, tanto per fare un esempio, che hanno subito questo fallimento, questa mancanza di liquidità e sono state salvate, in ultima parola, dallo Stato, dai governi precedenti. Adesso con il Conte Bis, e io non mi occupo di politica, parlo di dati di fatto, nell'agenda politica è rientrata questa materia, questo argomento, cioè la moneta elettronica. Da parte di alcuni opinionisti l'introduzione della moneta elettronica è un'evoluzione e andrebbe vista di buon occhio. Siamo passati dal baratto alla moneta, quindi c'è stata un'evoluzione, prima c'era lo scambio, i nostri antenati scambiavano dei beni, lo scambio in natura, poi è stata introdotta la moneta. Quindi il primo passaggio è stata la moneta cartacea. Adesso, a parere di questo, la moneta elettronica è la prosecuzione di uno sviluppo economico e sociale e quindi l'Italia si deve adeguare, sempre questo discorso di doversi adeguare. Sempre volendo parlare dei pro della moneta elettronica, questo studioso ha indicato una serie di particolari vantaggi. Lui sostiene che ci sarà l'eliminazione dell'evasione fiscale, perché con l'eliminazione totale del pagamento incontante si ridurrebbe drasticamente, forse eliminerebbe del tutto l'evasione dell'elusione fiscale. Un mondo, come dire, iperuranio. Vediamo qui quindi un intervento forte a favore della moneta elettronica. Ma c'è di più. Questo economista parla di semplificazione fiscale, ancora l'eliminazione delle dichiarazioni di redditi, poi ancora l'eliminazione della corruzione nella pubblica amministrazione, l'eliminazione delle mafie. Veramente questo sta dicendo questo signore. L'eliminazione consistente di rifornimenti economici alle attività malavitose organizzate. E poi ancora, quindi eliminazione della criminalità, eliminazione del lavoro nero, perché con l'obbligo di regolarizzare i lavoratori ovviamente andrebbe via il lavoro nero. E ancora aggiunge però che sarà necessario la gratuità di tutte le operazioni bancarie. Ecco, nei pro lui inserisce, questo economista, anche la gratuità delle operazioni bancarie. E qui casca l'asino. Come può un economista dire, prevedere la gratuità delle operazioni bancarie quando le banche hanno uno scopo che è il profitto? Le banche non sono cooperative sociali, hanno un utile che devono dividere tra i propri soci e quindi lo scopo di questa intrapresa, di questa impresa non è certamente quello di fare utilità sociale erga omnes, ma utilità al gruppo dei soci. Inoltre, sempre questo economista a un certo punto e per fortuna inizia a parlare dei contro e inizia a dire che secondo lui potrebbero esserci dei problemi di aumento dei costi per i professionisti. Ed è questo quello che mi fa arrabbiare e lo dico senza tema di smentite. Ci sono all'incirca 200.000 avvocati in Italia, ma lo stesso vale per le altre professioni, ingegneri, geometri, architetti, commercialisti. Ora, il problema, cari politici, non è diminuire le commissioni, perché le banche potrebbero anche decidere di farlo. Ma quanti POS saremo noi professionisti costretti ad acquistare? Quanti abbonamenti saremo costretti a sottoscrivere per avere qui, in questo studio legale, un POS a disposizione dei cittadini? Quindi quello che fino a un certo punto era un obbligo, ma non era sanzionato, adesso sarà sanzionato. Quindi avremo l'obbligo del POS, anche il sottoscritto avrà il POS, saremo obbligati. Quindi andiamo a vedere tra le pieghe. Questa riforma porta ad un aumento dei costi fissi e quest'aumento, secondo me, si riverberà negativamente all'utente finale. E chi è l'utente finale? Il consumatore. È il cliente di uno studio tecnico, di uno studio legale, che si rivolge al professionista il quale è obbligato ad avere questo POS. Io, tra i contro, aggiungo un'altra annotazione. I poveri. Chi non ha la possibilità di avere un conto in banca? Il povero invalido con 280 euro circa per l'assegno mensile di assistenza con una invalidità del 73% che vive solo, che ha soltanto quei soldi e a malapena può pagare le utenze, può andare a fare la spesa, deve obbligatoriamente avere un conto per una carta di credito o un bank per andare a pagare. Quindi il danno sarebbe sicuramente per questa gente qua, cioè per i poveri. L'eliminazione della moneta cartacea è un danno per i poveri. Ma non lo dico io, lo dicono altri studi di altri economisti che sono andato a studiare e a verificare. Poi un'altra annotazione, più che annotazione un aneddoto. Un dipendente di banca, mio amico, è andato in Svezia. Prima di andare in Svezia ha comprato delle corone svedesi, ha cambiato 500 euro, era il suo viaggio di nozze, quindi doveva andare lì e, come facciamo un po' tutti, ci premuriamo di prendere moneta cartacea del paese di arrivo. Con queste 500 euro in corona svedese è andato a Stoccolma e ha tentato di pagare con le monete. Non ha trovato nessun negoziante disposto ad accettare contanti. Tutte no cash area, no cash, non con tanti. Quindi dopo 15 giorni è ritornato in Italia con quel gruzzoletto di corone svedesi che ha portato alla sua banca per farsi ridare gli euro. Di conseguenza lui ci ha rimesso al danno la beffa. Non solo aveva questi soldi e non li poteva utilizzare, ma in più ha dovuto pagare le commissioni sulle sue carte di credito per poter effettuare i suoi acquisti e ci ha rimesso due volte perché le corone svedese che aveva portato in Svezia le ha dovute riportare indietro e pagare la commissione di cambio. Ora è stato rinviato al mese di luglio, diciamo per un approfondimento con le banche questa riforma della moneta elettronica perché, come dicono i politici al governo, bisogna trovare un accordo con le banche sulle commissioni. Ma io resto scettico in quanto il problema non è soltanto la commissione, il problema è il costo fisso che i professionisti, gli artigiani e i commercianti, che già sono obbligati, dovranno sostenere per l'acquisto o per il noleggio di questi strumenti elettronici. E per concludere il mio intervento che oggi è monotematico proprio perché io penso che questa rivoluzione copernicana presterà il fianco a delle critiche e i risultati, come in tutte le vicende italiane, quando sono anche negative, purtroppo non si può tornare indietro. Facevo l'esempio della formazione degli avvocati. Ormai è un obbligo, sarebbe far cadere un castello che si è costruito man mano e quindi non si riesce più, non si può tornare indietro. Mi auguro che, parere del sottoscritto, ovviamente la mia opinione personale, questa riforma non vada in quella direzione della obbligatorietà. Sia la moneta cartacea che la moneta elettronica dovrebbero circolare contemporaneamente, come è giusto che sia. Vi ringrazio e vi rimando ad un'altra puntata con Difesa Saluto. Carissimi amici, bentornati all'appuntamento con il Fisco. Questa settimana continuiamo a parlarvi della dichiarazione del Redditi, quindi parliamo del modello unico persone fisiche, ma anche del modello 730, anzi in particolar modo parleremo del modello 730 che come sapete è quel modello appunto per la dichiarazione dei Redditi conseguiti l'anno precedente rispetto a quello a cui si riferisce quindi per quanto riguarda la presentazione ed è particolarmente dedicato a tutti i pensionati e a tutti i dipendenti perché già in vigore da qualche anno dà la possibilità a tutti i dipendenti ma anche a pensionati di ottenere nel caso di un rimborso di imposta, questo rimborso avviene direttamente nella busta paga per quanto riguarda i dipendenti oppure direttamente nella mensilità della pensione per quanto riguarda tutti i titolari di una pensione da parte dell'Inps. Per quanto riguarda questo rimborso per i dipendenti avviene nella mensilità di agosto o di settembre stesso discorso per quanto riguarda i pensionati quindi quando i pensionati hanno diritto ad un rimborso di imposta quindi magari perché hanno affrontato degli ordini deducibili o delle spese detraibili adesso vedremo anzi quali sono tutti gli ordini e tutte le spese che possono essere detratte dalla dichiarazione del reddito per ottenere uno sconto dalle tasse oppure direttamente per ottenere un rimborso quindi dicevamo per quanto riguarda un pensionato e questo pensionato ha diritto ad un rimborso direttamente nella pensione, nella mensilità anch'esso di agosto o di settembre. Per quanto riguarda invece tutti quei titolari di un reddito per cui magari non hanno spese da detrarre e hanno dei redditi notevoli, magari un doppio reddito oppure una casa data in allocazione e quindi devono pagare le imposte quindi l'Inps. La trattenuta avverrà anch'essa nello stipendio per quanto riguarda tutti i dipendenti quindi sempre nella mensilità, nella busta paga del mese di agosto o di settembre stesso discorso anche per quanto riguarda tutti i pensionati che appunto devono pagare lì perché questa trattenuta avverrà direttamente nella mensilità di pensione del mese di agosto o di settembre. Quindi il grande vantaggio per quanto riguarda tutti quelli che devono pagare è il fatto che non ci si deve più rivolgere allo sportello per magari fare la fila per pagare le tasse con il famoso modello F24 e il vantaggio per chi ottene un rimborso e nei tempi di rimborso appunto perché prima si aspettava parecchi anni addirittura 4-5 anni per ottenere un rimborso da parte dello Stato invece in questo modo sarà il datore di lavoro o l'ente pensionistico ad anticipare queste somme di rimborso e poi sarà il datore di lavoro o l'Inps a chiederle indietro direttamente al fisco quindi all'agenzia delle entrate. Entriamo nel dettaglio di tutte queste spese che appunto danno diritto a degli sconti di imposta oppure addirittura danno diritto ad ottenere un rimborso. Sono le varie spese sapete che ci sono gli onni deducibili e le spese detraibili. Dobbiamo fare distinzione perché è molto importante. Gli onni deducibili sono quelli che si tolgono direttamente dall'ammontare del reddito prima di calcolare le imposte invece le spese detraibili sono quelle che si defalcono che si detraggono direttamente dall'importo delle imposte da versare. Per quanto riguarda le spese che si possono detrarre dal modello 730 ma anche dal modello unico persone fisiche si segue il criterio di cassa, cioè devono essere sostenute nell'anno di riferimento per cui si presenta la dichiarazione di arretti. Quindi se noi nel 2020 presenteremo la dichiarazione di arretti, il modello 730 per le spese sostenute nel 2019, queste spese devono essere pagate dal 1 di gennaio al 31 di dicembre di riferimento. Quindi si segue il criterio di cassa. Stesso discorso per quanto riguarda tutte, per esempio, le cose più dibattute sono gli interessi passivi nel mutuo perché molto spesso la banca li detrae l'anno successivo nel mese di gennaio anziché nel mese di dicembre magari, anche se magari sono di riferimento dell'anno precedente, del 2019. Quindi si segue sempre il criterio di cassa. Per quanto riguarda tutte queste spese, ovviamente devono essere documentate con ricevute fiscali ma anche con fatture, devono essere conservate per il tempo necessario che va dato all'Agenzia delle Entrate per effettuare eventuali controlli che possono essere anche effettuati dalla Guardia di Finanza che normalmente sono 5 anni, quindi devono essere conservati accuratamente per 5 anni dopo il periodo di imposta di riferimento. Non va più allegato a nessun tipo di spesa perché ovviamente per il solo fatto che si presenta telematicamente via internet o tramite intermediari abilitati, quindi professionisti, tributaristi, commercialisti che consentono lavoro oppure tramite CAF e comunque non c'è nessun adempimento cartaceo. Quindi non va allegato niente alla dichiarazione ma semplicemente queste spese vanno conservate, abbiamo detto, per il tempo massimo di 5 anni rispetto al riferimento da cui sono state sostenute e per cui presentiamo la nostra dichiarazione degli arrebili. Per quanto riguarda queste spese, già nella scorsa settimana abbiamo fatto una panoramica su queste spese che danno appunto diritto ad uno sconto di imposta, continuiamo a verificare quali sono le spese più importanti che danno diritto ad una riduzione delle tasse da pagare. Quelle più importanti, perché già stata entrata in vigore nel riferimento anno 2018, e tutte le spese sostenute per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, quindi per chi ha un abbonamento per la metropolitana oppure per i bus, per magari regarsi al lavoro, fino all'ammontare di 250 euro è possibile detrarre il 19% di questa spesa che è stata sostenuta. Quindi è importante conservare tutte le ricevute anche del pagamento, dell'abbonamento appunto per il trasporto pubblico. Altra spesa molto importante, di cui si è molto parlato già per l'anno di riferimento 2018, quindi per la prossima digrazione nel 2020, che presenteremo appunto per l'anno 2019, è la possibilità di detrarre il famoso bonus verde, quindi per chi realizza già i giardini, oppure una semplice manutenzione del giardino di casa, oppure l'arredamento di uno spazio verde, anche in questo caso c'è la possibilità di detrarre il 19% della spesa che abbiamo sostenuto. Quindi si tratta di una grande opportunità. Poi sapete che tra le detrazioni fiscali ci sono molto diffuse le detrazioni per le spese sanitarie, quindi parliamo di scontrini della farmacia, il famoso scontrino parlando, quindi quando ci richiamo in farmacia per acquistare dei medicinali, ricordiamoci di andare sempre con la tessera sanitaria, perché la tessera sanitaria poi permette al farmacista di fare il famoso scontrino parlando, dove si rileva il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa. Questo è molto importante perché è l'unico scontrino che dà diritto ad un rimborso del 19% della spesa che abbiamo sostenuto. Stesso discorso per tutte le spese nell'ambito sanitario, quindi parliamo di visite specialistiche, di ticket che abbiamo pagato, quindi possiamo detrarre il 19%, però per la somma che supera il limite minimo di 129,11 euro. Quindi per la prima parte delle spese non è possibile detrarre nulla, quindi per la somma che eccede questo limite di 129 euro per il 12 c'è la possibilità di detrarre il 19%. Stesso discorso per quanto riguarda tutte le spese mediche e le spese sanitarie che ruotano nell'ambito delle persone con disabilità. Altra cosa molto importante è per chi ha un animale domestico e quindi sostiene delle spese sanitarie sostenute dal veterinario, quindi parliamo di visite presso il veterinario, ma parliamo anche dell'acquisto di medicinali che servono per i nostri animali domestici. Per un limite massimo di 387 euro per il 34 è possibile anche in questo caso recuperare il 19% della spese che abbiamo sostenuto. Poi sapete che abbiamo già accennato gli interessi passivi che paghava la banca per il mutuo quando abbiamo acquistato la prima casa, fino a un limite massimo di 4.000 euro abbiamo diritto al dovrimborso del 19%, quindi gli interessi passivi che vengono pagati alla banca per la concessione del mutuo allora è possibile detrarre nella misura del 19%, però fino al limite massimo di 4.000 euro. per la somma che accede non è possibile detrarre nulla. Poi sappiamo che tutte le spese per la frequenza di università pubblico-private e tutte le spese scolastiche fino al limite massimo di 786 euro è possibile detrarre il 19%, però già il prossimo anno si parla che questo limite potrà essere aumentato a 800 euro. Una pareglie se volevo parla per quanto riguarda spese di istruzione perché sono molto importanti, sono molto frequenti per quanto riguarda tutti i genitori che appunto mantengono i figli a scuola, quindi tanti si chiedono quali sono le spese che danno diritto a questa detrazione per quanto riguarda le spese scolastiche, soprattutto quando parliamo di spese universitarie, perché per esempio l'acquisto di semplici libri non dà diritto a questo rimborso del 19%, quindi vediamo quali sono le spese contemplate tra le spese universitarie che appunto danno diritto ad un rimborso di imposta. Il fisco sostiene che le spese che danno diritto a questa detrazione fiscale sono le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria di qualsiasi genere, ma anche le spese per quanto riguarda i corsi universitari di specializzazione, ma anche le spese per quanto riguarda i corsi di perfazionamento, addirittura c'è una circolare apposta dell'agenzia delle entrate, la circolare numero 122 del 99 che appunto contempla tra le spese universitarie che danno diritto ad una riduzione dell'imposta del 19% anche i corsi di perfezionamento. Poi tutti i master universitari, i corsi di dottorato di ricerca appunto danno diritto a questa riduzione, questa detrazione nella misura del 19%. Ancora nello specifico tutte le spese sostenute quindi per tasse di immatricolazione, ma anche ovviamente di iscrizione anche per gli studenti fuori corso, ma anche tutte le sovra tasse per esami di profitto e di laurea, ma anche la partecipazione ai test di accesso a questi corsi di laurea sono contemplate appunto tra le detrazioni per quanto riguarda le spese universitarie. Quindi era opportuno fare questa parentesi perché molti amici a casa ci hanno mandato delle mail appunto per verificare, per capire quali sono queste spese che danno diritto a questa detrazione fiscale. Poi tutte le attività sportive dei nostri figli, quindi quando fregono delle palestre, nella misura del 19%, però fino a una spesa di 210 euro, è possibile portarla in detrazione dalla nostra dichiarazione da reddito. Ancora per esempio tutte le spese di frequenza di asilinito, però nel limite massimo di 632 euro per ogni bambino, anche qui c'è il diritto al rimborso del 19%, a condizione che il bambino abbia un'età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Questa è una condizione, un limite che stabilisce il fisco per poter ottenere questo rimborso d'imposta. Poi ovviamente tutte le spendi di 6 funibri, quindi quando c'è il decesso di un familiare è possibile recuperare il 19% fino al limite di spesa di 1.550 euro. Tornando all'acquisto della prima casa, oltre al fatto di poter defalcare come detrazione gli interessi passivi che appunto paghiamo alla banca quando abbiamo contratto il mutuo per l'acquisto della prima casa, se abbiamo avuto l'intermediazione immobiliare, quindi di un professionista che appunto si occupa di intermediazione immobiliare, abbiamo sostenuto il suo onorario nella misura del 19% fino al detto massimo di 1.000 euro, è possibile anche in questo caso ottenere questo rimborso d'imposto oppure semplicemente uno sconto dall'IPF da pagare. Poi anche tutti i cani di locazione quando abbiamo dei ragazzi che sono costretti a studiare fuori, quindi magari hanno un corso, seguono un corso di laurea, quindi studiano ad una distanza che sia oltre 100 km dal luogo di residenza, allora in questo caso c'è diritto a poter detrarre il 19% del canone di locazione che pagano i ragazzi per quanto riguarda l'affitto per questi studenti che si trovano fuori sedi. Bene, per oggi è tutto, noi riprenderemo la prossima settimana sempre verificando quali sono questa ampia platea tra gli onori deducibili e gli onori detraibili che appunto danno diritto ad uno sconto di imposta che potrebbe derivare da qualsiasi spesa sostenuta e quindi parliamo di onori deducibili e di spese detraibili e ricordo a tutti i vice a casa che se volete mandare le vostre mail per chiedere delle informazioni per i vostri esibili, noi saremo felici di rispondere a tutti. Grazie, alla prossima settimana.